ciao amici come state vi sentite stressati in questi giorni puoi dirlo forte aiuto allora questo video è per voi l'ansia da stress è un disturbo comune in situazioni di difficoltà come questa ci si sente stressati a tal punto da soffrire di attacchi di ansia o di panico si possono avvertire palpitazioni senso di soffocamento panico gambe che cedono attacchi di pianto angoscia insonnia o frequenti risvegli notturni in caso di ansia generalizzata cioè non legata a situazioni psicologiche la naturopatia propone l'aiuto di stile di vita e rimedi naturali per affrontare l'ansia è necessario ridurre ciò che la causa ovvero lo stress nel mio sistema di salute naturale io propongo integratori meditazione sport yoga e stare lontani da situazioni di stress e oggi vi propongo anche un regalo speciale che trovate alla fine del video rimanete con me intanto vediamo insieme quattro rimedi naturali contro l'ansia da stress se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 fiori di bac sono un'ottima terapia fitoterapica per lenire lo stress e l'ansia contro gli attacchi d'ansia può aiutare il rimedio di emergenza rescue remedy per trarre il massimo beneficio dei fiori la terapia va però personalizzata i più usati contro l'ansia sono rock rose cherry plum star of bethlehem o ac se volete un aiuto professionale per scegliere i fiori di bac più adatti a voi potete contattarmi per un coaching dal link qui sotto 2 magnesio ci sono numerosi studi scientifici che dimostrano i benefici del magnesio per l'equilibrio psicofisico e per ridurre la tensione muscolare aiuta a donare la calma e aiuta a trattare l'insonnia le donne in particolare necessitano spesso di integrazioni di magnesio nei momenti di forte stress ci può essere una forte carenza di questo minerale lo si può integrare con cacao frutta verdura noci mandorle e cereali integrali se volete un buon integratore di magnesio ho messo in descrizione un link a un buon prodotto 3 melissa nella mia esperienza la melissa è ottima per placare le tensioni e la sensazione di angoscia si può assumere in infuso in tintura madre o in estratto secco in base alle necessità 4 biancospino è ottimo per ridurre palpitazioni e tachicardia e migliorare il riposo notturno contiene vitexina che ha qualità antispasmodiche e sedative naturali si può assumere in infuso tintura madre o estratto in descrizione trovate i link a tutti questi prodotti ho fatto io per voi il lavoro di scegliere prodotti di qualità a un prezzo onesto bene amici oggi abbiamo visto 4 rimedi naturali per l'ansia da stress mettete mi piace condividete il video iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ecco il mio regalino di oggi è una meditazione guidata contro ansia e stress vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali